Giacomo Stucchi, Presidente del Copa, come commenta le affermazioni del Ministro del Tesoro, secondo il quale sarebbe stato contattato per cercare di deporre Silvio Berlusconi? Basta ricordarsi da osservatori politici quello che è successo alla fine del 2011, quello che era il comportamento sui mercati internazionali della nostra economia, quella che era la valutazione che veniva fatta in termini di spread che impazziva dalla sera alla mattina. Sicuramente che ci fosse in atto una manovra per indebolire il nostro governo e quindi per invitare Berlusconi a farsi da parte, questo è scontato, appare chiaro gli analisti politici, dopodiché chiamarlo complotto forse eccessivo. Le dimissioni di Silvio Berlusconi sono state decise dai poteri forti? Le dimissioni di Silvio Berlusconi erano auspicate dai poteri forti e quindi sicuramente quello che potevano fare lo hanno fatto.